hai visto che bello qui oratio stare all'aperto è una delle gioie della vita è meraviglioso cugino grazie per avermi invitato nella natura non c'è niente di meglio di una bella boccata d'aria fresca oracio presto guarda laggiù dei coniglietti abbassa la voce cugino non vogliamo spaventarli davvero adorabili quello stomaco che brontola li spaventerà non hai fatto colazione prima di partire non era il mio stomaco franzo era una valanga per tutti i tonni è stato spaventoso povero coniglietto è stato separato dal suo piccolo amico dobbiamo fare qualcosa chiamiamola pop a troll capitan turbot francois che cosa succede rider c'è stata una valanga siamo bloccati sul lato di una montagna con un povero coniglietto che è stato separato dal suo amico ci serve aiuto tranquillo francois ci pensiamo noi nessun lavoro è faticoso per un cucciolo coraggioso questo sembra un compito per il rise and rescue di chase questo caso fa per chase sei arrivato in fretta avvistiamo il coniglietto non basta non riesco a vedere oltre la parete di rocce però lo sento resisti coniglietto ci pensa chase droni wow incredibile forza piccolo salta nel cestino oh adoro il lieto fine grazie chase aspetta francois ci serve ancora una soluzione per questa notevole quantità di rocce tranquillo capitano turbot ci penso io uff lancia palline sei stato veloce ma certo ottimo lavoro chase i coniglietti si sono riuniti e il sentiero è di nuovo libero grazie rider non ce l'avrei fatta senza il mio super rise and rescue un altro problema risolto dalla pop patrol per noi è stato un piacere se avete bisogno di aiuto siamo a disposizione sono davvero adorabili grazie a tutti